Magic School 2, un posto magico per il tuo bambino. Troverai tutti gli ambienti adatti per rendere confortevole la permanenza del tuo piccolo. La nostra struttura è studiata rispettando le norme più severe in termini di sicurezza, igiene e salute. Abbiamo lo spazio relax, sezione per il pranzo, le attività a tavolino e l'area dedicata alla nanna. Nella nostra cucina possiamo soddisfare le esigenze alimentari di ogni bambino. Grazie al personale competente e all'assenza di barriere architettoniche, possiamo accogliere ogni tipo di disabilità. Siamo aperti tutti i giorni dal medie a venerdì, dalle ore 8 alle ore 16, con prolungamento orario a richiesta, il sabato dalle ore 8 alle ore 12. Magic School 2, Ticarazzi, via Giovanni Meli, 8. Siamo qui, tutti. L'appello!